ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale io sono Alessio e oggi come vedete siamo su PES20 e vediamo un po' l'aggiornamento di oggi lunedì e quest'anno Konami ci sta abituando a due aggiornamenti settimanali il lunedì e il giovedì questo di oggi ci dice il problema di matchday della settimana è il seguente ci sta l'evento matchday a tema UEFA Euro 2020 con squadre predefinite e sono da oggi fino al 13 ottobre e poi ci sta il matchday a tema campionato brasiliano con squadre predefinite che sarebbero oggi domani e dopodomani e poi dal 10 fino al 13 personalizzate allora andiamo a vedere le partite sfide di oggi c'è coppa challenge online la solita penso bisogna avere tre calciatori il campionato brasiliano vediamo un attimo giocatori che devono essere in squadra tre giocatori buono su squadra eccoli qua bene sono quelli del campionato brasiliano che ho visto c'è uno solo oro palla nera cioè il portiere gli altri sono tutti oro vabbè io non li pesco molto probabilmente non li pesco andiamo a vedere che ci sta poi dovrebbe esserci anche coppa challenge contro contro le nazionali le classiche tre partite qua vi consiglio sempre di usare le vostre palle bianche o i vostri calciatori più scarsi che si vincere si vincere volevo vedere gli agenti ok andiamo a vedere gli agenti speciali prima abbiamo 100% palla oro e ci sono i giorni rinanese arboleda pablo bruno alves rynaldo jean jonastro e antony io non li pesco non mi interessa questi del sao paolo e poi c'è sta il corinthias che ci sta dentro ecco il bersaglio c'è sta Cassio Fagner, Danilo, Avelar Sornosa, Clayson Pedrinho e Ralf a voi le pescate fatemi se voi li girate a questi due pacchetti io non li giro non mi interessano quindi ci andiamo a fare 5 giri nel pool da collezione andiamo a vedere il profilo adenco bersagli un pessimo aggiornamento comunque oh c'è Sergio Ramos che già tengo Sergio Ramos Lewandowski, Modric, Ter Stegen Rakitic, Jordi Alba Paran, Courtois, Reus, Verratti Saul, Müller Koke, Isco, Untiti C'è tanta tanta roba tanta tanta roba dai facciamoci 5 giri qua e poi chiudo vai paga con GP conferma fatemi sapere voi raga nei commenti se aprite quei pacchetti del camionato presidiano se li avete aperti che vi è uscito io non li aprirò perché non mi interessano primo palla argento benissimo abbiamo iniziato bene lo svincolato Lang è appunto Lang no terzino a destra Lang 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 va bene Maxime e Adri è in barba vai 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 andiamo subito avanti paga con GP si non mi qualcosa di buono bella palla nera dove andiamo Spagna no Russia meno palla ora vabbè chi sei chi sei Corluca Corluca difensore centrale locomotive Mosca ciao Corluca benvenuto Sergi Enric e Mitrita Mitrita che è un asino che Mitrita andiamo avanti altro pacchetto va con GP dai una palla nera 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 e palla nera Spagna Palla nera dai gai palla nera nag Pavlò Levante Morales Eza ciao Morales piacere di conoscerti ruba impegna e butco avanti gli ultimi due pacchetti paga con gp e dai una palla nera dai 5 pescate almeno una palla nera me la devi di nuovo spagna dai questa palla nera nagciali papà sinistro palla oro atletico atletico yuri atletic club terzino sinistro avanti ok shatov e pritchard vabbè vediamo l'ultimo pacchetto se mi da qualcosa paga con gp si paio francia argentone niente palla nera in questo giro chavelli chavelli chavalerin chavalerin credo si pronuncia cc chavalerin seneli e palomat andiamo avanti ok raga pessimo aggiornamento fatemi sapere voi nei commenti che ne pensate di questo aggiornamento e se spacchettate con i pacchetti ci vediamo nel prossimo video lasciate tanti like condividete se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale ciao 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 ciao